buongiorno a tutti dunque lunedì 3 maggio il mio cuore da interista palpita fino a un certo punto sempre con la dovuta continenza non essendo io un tifoso con la bava alla bocca palpita per lo scudetto conquistato con anticipo dal dall'inter grande entusiasmo dei tifosi pure troppo visto le immagini che sono arrivate da milano nel pomeriggio di ieri no con questi assembramenti che sono comprensibili dal punto di vista dell'entusiasmo della voglia di gioire tutti insieme della partecipazione ma che insomma in clima di covid soprattutto più che altro perché giustamente altri settori dicono ma perché ogni volta che si ha a che fare con il calcio certi limiti vengono superati e questi superamenti vengono tollerati quando si tratta di dire che ne so facciamo musica dal vivo un concerto con il pubblico in presenza con tutti con tutte le accortezze tutte le avvertenze non è possibile e in effetti questo sarebbe un tema da approfondire non oggi oggi che per una fortunata coincidenza siamo qui a celebrare anche lo scudetto dell'inter nel momento in cui ripeto per una congiuntura astrale casuale nel senso che questo incontro poteva nei miei programmi e doveva avvenire anche prima per il piacere di incontrare l'ospite che sto per presentarvi in realtà poi di riffo di raffa siamo arrivati a oggi e quindi è con grande piacere che saluto colei che vi ricordo è stata la prima donna a guidare una formazione maschile in ambito professionistico cioè carolina morace buongiorno ciao buongiorno a tutti buongiorno allora allora che bella immagine luminosa serena gioisce per l'inter ma anche no in realtà è ieri abbiamo giocato con con la mia squadra con la lazio abbiamo abbiamo vinto 4 a 0 con la terza in classifica noi siamo seconde salgono in seriale prime due e ieri abbiamo affrontato la in ravenna che era insomma tre punti da noi mancano tre partite per cui insomma era una partita piuttosto dedicata però insomma abbiamo vinto 4 a 0 quindi ecco il sorriso non è per l'inter ma è per per la mia lazio giusto allora ricordiamo anche se devo essere devo essere sincera vengo da una famiglia di interisti quindi immagino che mio padre e mio fratello che non ho ancora sentito saranno molto molto contenti oggi cioè dopo diversi anni insomma saranno molto contenti beh diciamo quegli undici anni che di solito passano tra uno scudetto e l'altro per quanto riguarda l'inter ma va bene mi dispiace come dire per se provieni da una famiglia di interisti nessuno è perfetto te ne dovrei fare una ragione ma insomma è un difetto largamente perdonabile scusami dunque tu sei alla guida della squadra femminile della lazio che milita in serie b nel campionato femminile e ti ritrovi seconda a quante giornate dal termine dunque mancano tre giornate e io ho preso la guida della squadra diciamo era la la prima di ritorno e qui insomma ed eravamo quinta in classifica adesso abbiamo un po risalito la china e siamo siamo seconde quindi insomma siamo in in corsa per andare in serie a incrociamo le dita e non dico niente per scaramanzia ho ricordato anche che tu però sei appunto la prima sei stata la prima donna a guidare una formazione maschile in ambito professionistico no sì allora presidente gauci no mi chiamo per questa questa avventura che poi peraltro loro durò soltanto due mesi e mezzo perché io non accettai le le solite poi in temperanze del del presidente perché era era un uomo era un presidente così era uno che chiamava gli allenatori durante 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 la partita e diceva loro fai giocare questo e togli questo e gli allenatori lo facevano inutile dirti antonello che io non lo facevo proprio no per cui insomma ma anche per questa mio insomma di rifiuto di ascoltare di seguire quello che lui voleva mi è valso il suo il suo rispetto insomma lui fino fino alla fine è stato ha sempre parlato molto bene di me della mia personalità del proprio del fatto che non mi lasciassi coinvolgere da dalle scelte di altri insomma ma ero responsabile delle mie scelte ed è stata un'esperienza molto molto bella molto molto positiva insomma ancora adesso sento alcuni dei giocatori ancora li sento scusami allora premesso che ovviamente il fatto che tu abbia tenuto testa tra l'altro a un presidente come gaucci soggetto su cui si potrebbe fare una puntata parte ma ti rende merito perché uno deve sempre sbagliare io dico sempre sbagliare per conto proprio nel senso uno si prende le sue responsabilità fa quello che ritiene giusto poi se sbaglia o se ne va o viene cacciato quello che è intollerabile vale nello sport come vale nel giornalismo siamo arrivati a oggi sull'onda della vicenda delle presunte censure tentate realizzate sull'intervento di un cantante al concertone del primo maggio eccetera benissimo io quello che ho sempre detto non si fanno i controlli preventivi o meglio puoi concordare una serie di parametri dentro i quali poi il soggetto è libero di agire libero di sbagliare prendendosi le sue responsabilità ma mai mettere la faccia su scelte che non sono le tue perché nessuno di noi è un pupazzo poi ovviamente si può sbagliare se si sbaglia pazienza uno è pronto a pagare il fio ma scusami entriamo subito in media stress allora diciamo così qual è la differenza per un allenatore donna nel gestire una squadra maschile e una squadra femminile ma non c'è una differenza antonello è chiaro che allenare una squadra maschile professionistica tu arrivi a confrontarti e a gestire un gruppo di ragazzi e di giocatori che sanno che cos'è il professionismo nelle donne quindi è più facile nelle donne questo sta avvenendo oggi grazie al all'ingresso nel calcio femminile delle squadre professionistiche maschili e questo sta iniziando diciamo che la personalità non la cambi il modo di gestire non lo cambi cioè parli con singolarmente con il giocatore ma parli singolarmente anche con con la giocatrice magari la donna è più abituata a esprimere giudizi ehm e a sindacare di più le scelte ehm però anche con con le donne anche con le giocatrici oggi c'è basta motivare eh il motivo per cui tu fai una strategia piuttosto che un'altra nel momento in cui tu eh hai un progetto hai una strategia la condividi e spieghi perché è chiaro che sia un gruppo di uomini che un gruppo di donne eh ti segue insomma per cui su questo al di là del che era una novità però insomma poi i ragazzi all'epoca hanno capito che avere un'allenatrice donna in quel momento voleva dire essere guardati essere osservati eh ed avere possibilità di entrare in grandi squadre eh molto più eh facilmente rispetto magari a un giocatore che giocava la stessa categoria con un allenatore uomo La domanda nasce dal fatto che ci sono due ordini di problemi un ordine di problema eh un ordine di problema è quello per cui io ricordo purtroppo una polemica del passato quella in cui un alto dirigente riferendosi agli sport femminili e dovendo parlare di risorse da destinare al settore e di fronte a diciamo così eh problemi rappresentati dalle donne in ordine alla loro attività sportiva se ne uscì con un brillante ma guarda se dobbiamo perdere tempo con i problemi di quattro lesbiche non so se Carolina ti ricordi ci diamo del tu con Carolina anche perché a un certo punto io sono stato per un breve periodo immeritatamente il suo direttore nella seconda metà del degli anni 2000 all'inizio quindi va bene quindi una sorta di resistenza la domanda è anche a livello dirigenziale certe volte scontano donne la seconda nella nel caso concreto di allenare calciatori uomini e calciatrici donne è che di solito si dice secondo me correttamente intanto che gli uomini le donne sono multitasking e gli uomini sono binari on off e quindi magari appunto affrontare o impostare una partita avendo a che fare con due teste che addirittura biologicamente no l'emisfero del cervello dominato da le emozioni femminili è diverso dalla stessa parte allora in tutto questo mi chiedevo se del lato allenatore significa impostare i ragionamenti in maniera diversa senti io l'imposto da donna e con il cervello da donna eh generalmente la gestione delle famiglie ho già capito dove stai andando a imparare vai vai anche perché insomma veniamo da da una società prettamente matriarcale che è quella storicamente la nostra per cui eh io eh è chiaro che il gestire un gruppo la cosa importante vuol dire deve essere avere carisma avere una leadership avere un progetto chiaro eh in questo progetto chiaro che si condivide con la squadra ognuno ha un un ruolo ben preciso eh una volta che il che la squadra eh segue eh il leader e in nella nell'organizzazione e nel nell'obiettivo eh guarda la differenza è che con le donne ci puoi parlare parli un pochino di più perché ne hanno forse più bisogno ehm poi sai io sono un po' particolare perché io ed è questo poi che serve quando tu hai hai sei allenatore in prima e poi hai anche hai un assistente io mi trovo sempre molto meglio a dialogare ad avere a che fare con le persone estroverse con le persone che hanno anche personalità più difficili mi trovo meno bene ad esempio con le persone che sono un pochino più eh un pochino più timide e qui c'è l'intervento visto che io non ci arrivo è l'intervento delle dei miei della mia assistenti è chiaro che eh cambi eh cambi atteggiamento c'è una giocatrice la puoi prendere in un modo l'altra giocatrice la prendi in un altro però anche l'essere multitask quando fai sport per me fino a un certo punto fino a un certo punto è importante perché lì ti devi focalizzare su un ruolo e su un compito dunque tu sei nata a Venezia eh mi chiedo come nasce la tua passione per il calcio cioè tu dici dove erano sti campi da calcio a Venezia anche se vuoi sì di solito uno si immagina che in laguna o uno diventa una nuotatrice olimpionica o una rematrice ma calciatrice no è vero ma io perché sono figlia di un ufficiale di marina per cui abitavo a Venezia abitavo in un posto dove abitavano tutti i militari e notoriamente i posti dei militari hanno varie strutture sportive della pallacanestro pallavolo calcio eh a Venezia dove abitavo io c'era un un campetto che noi appunto chiamavamo campetto e un campo a undici tra l'altro a proposito di questo campetto eh proprio l'altro giorno su facebook un un amico veneziano di allora insomma perché noi giocavamo tipo cinque sei ore ogni giorno ed eravamo tutti ragazzini e questo ex compagno di giochi insomma mi ha mandato questa foto del campetto che non c'è più e quindi insomma per noi che abbiamo io lì ho imparato a giocare lì mi è venuta la passione quindi vedere che è stato coperto insomma con una cementata è stata è stata un po' dura però insomma io ho iniziato e ho sempre giocato ecco perché ho avuto la fortuna di avere di nascere in un posto dove c'erano strutture sportive cosa molto rara in Italia che si dovrebbe pensare un pochino un pochino di più scusami ci vuoi ricordare a quanti anni hai debuttato nel calcio giocato? dunque nel calcio giocato eh avevo undici anni e ho debuttato in serie C e poi ho debuttato in serie in nazionale a quattordici anni incredibile a undici anni per quanto riguarda il campionato e a quattordici per quanto riguarda la nazionale sì fisicamente ero poi tra l'altro mi ricordo la prima partita che mia mamma insomma era un po' perché si poteva giocare a dodici anni io invece mi hanno fatto il cartellino un anno avanti quindi ne avevo undici però fisicamente non ero mingerlina ero solo una ragazzina normale e mia mamma prima di uscire io ovviamente accompagnata da mio padre mia mamma mi disse no guarda stai attenta se c'è un contrasto non andare sono tutte più grandi di te sono grandi sono grosse quindi stai attenta non andare nei contrasti io in quella partita stavo andando una mia compagna mi aveva lanciato verso la porta e l'avversaria da dietro quando io ho approcciato il portiere mi ha dato una spinta per cui io con con la punta dello scarpino ho dato un calcio nel viso del portiere facendole poverina un occhio nero per cui il primo giorno da che dovevo prenderle in realtà senza volerlo le ho date quindi l'esordio è stato un po' cruento insomma taglimi una curiosità tu hai appunto esordito con la nazionale nel 78 in sostanza e poi vent'anni dopo hai deciso di ritirarti ritirarti con un palmarès in cui c'è una dozzina di scudette adesso non faccio l'elenco poi chi vuole si può informare a proposito però di questa cosa che mi hai detto no i falli per quanto riguarda sempre c'è maggiore cattiveria degli uomini perché in base anche a una diversa conformazione fisica una maggiore prestanza ci mettono del loro e sono più aggressivi negli scontri o c'è una dose di agonismo anche se vuoi esasperato per quanto riguarda l'altra metà del cielo no ma non c'è la cattiveria c'è c'è il contrasto ed il contrasto ovviamente dipende dal peso del giocatore dalla velocità di corsa quindi è ovvio che lo scontro tra due uomini è maggiore rispetto allo scontro tra abbiamo perso un massimo eccoci perfetto no ti rivedo ti rivedo grazie diciamo che di solito di solito chi ci viene a vedere dice che siamo meno abituati a stare per terra e forse questo è vero cioè ma è anche perché voi uomini come avete 36 e 5 siete morti e noi a 38 facciamo le nostre cose però questo è un po' la cosa che viene detta no che noi subiamo fallo cadi però ti rialzi a meno che se rimani per terra vuol dire che insomma che stai male ecco questa è una cosa che diciamo viene spesso riconosciuta al calcio femminile questo mancanza di di sceneggiata se vogliamo sì sì ma ti dirò che in questo il calcio femminile assomiglia di più al calcio maschile nordico del nord europa o nel senso che ho l'impressione guardando le partite che poi invece le partite dove le protagoniste sono le squadre diciamo così più mediterranee c'è questa tendenza alla sceneggiata ad accentuare lo scontro il danno dopodiché di solito ridendo è come è come antonello cioè quando tu vedi alcune a zuffa che gente che si a zuffa nel calcio femminile è il bassissimo livello cioè non è mai il livello alto poi insomma se guardi e vai a quel livello si succede non succedono queste cose che si tirano per i capelli eccetera però stiamo parlando veramente di poca basso livello insomma basso livello anche allora andiamo di alto di pepe che scusi antonello poi è proprio lo scusa intanto c'è il mio gatto che gira come vedi a casa vedo ma gli pare innocuo quindi va benissimo esatto per cui insomma diciamo che c'è differenza però dettata da questo che ti ho detto insomma siccome hai fatto anche la commentatrice televisiva a un certo punto no hai deputato ai tempi addirittura di tele monte carlo poi ci siamo incrociati noi alla sette una quindicina d'anni dopo ma parlo quindi non all'allenatrice della lazio in corsa per passare incrociando le dita in serie a nel campionato femminile parlo alla commentatrice che effetto ti ha fatto la vicenda della superlega superlega che ricordo nasce da un cartello che poi si è sbriciolato in 48 ore ma un cartello di 12 squadre in cui tre erano italiane milan inter e juventus tre erano spagnole real barcellona e atletico madrid e sei erano inglesi la lazio lazio maschile non era coinvolta non partecipava era contraria insieme a tutti gli altri che si sono posti al disegno qual è stata la tua reazione la tua valutazione su questa vicenda ma a me lo sport americano non mi piace e non lo guardo cioè lo trovo lo trovo fine a seste ed è un po quello che sarebbe diventata la superlega trovo che se non c'è il pathos della grande squadra che può perdere contro la piccola ma noi tra l'altro abbiamo l'atalanta che è un esempio lampante cioè l'atalanta in questi ultimi anni ha asfaltato tutte le grandi e poi per chi ama il calcio e lo guarda come me senza senza tifare per nessuno ma l'atalanta è stata una delle squadre che a livello europeo mi ha divertito più di qualsiasi altra no invece a me non piace a me non piace perché perché in realtà mi piace vedere anche come gioca la piccola squadra mi piace vedere la piccola squadra che può mettere in difficoltà la grande squadra ma guardiamo anche il sassuolo di De Zerbi oppure guardiamo che fine ha fatto quest'anno la Juventus che non si sa nemmeno se entrerà in Champions League quindi non lo so io lo trovo concettualmente sbagliato ovviamente il mio ragionamento non è un ragionamento che pensa al risultato economico e agli introiti è chiaro per cui non entro non entro nel merito però quello che è successo in Inghilterra con i tifosi che si sono tutti ribellati cioè per me per me indicativo io credo che lo sport deve continuare ad essere dei tifosi cioè lo sport è alimentato dai tifosi e il tifoso che entra in un sogno il tifoso che si medesima nel 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 modello il tifoso che si identifica nella squadra della propria città io credo che sono tutte cose che fanno parte della nostra cultura forse l'America che dovrebbe seguire noi e non viceversa nello sport c'è come un ideale staffetta perché oggi stiamo parlando con Carolina Morace con grande piacere bene discorso ci siamo lasciati parlando con altrettanto piacere con Marcello Lippi il quale sulla Superlega diceva lui ha detto immediatamente ho avuto rigetto diciamo così per per l'ipotesi dice poi però ho messo a fuoco una circostanza e cioè che i proprietari dei club quelli che volevano fare il cartello tranne poche eccezioni sono o cinesi o russi o arabi cioè gente che ha fatto degli investimenti economici e che in base alla logica del quattrino cercava di uscire da situazioni anche pesantemente indebitate proprio recuperando questo tipo di dimensione americana che non piace a Carolina Morace non piace neanche a me cioè dice in sostanza i proprietari dei club non hanno capito cos'è il calcio in Europa come lo vivono i tifosi europei come lo vivono soprattutto i tifosi mediterranei ma persino gli inglesi che sono quelli che hanno dato vita alla rivolta più come dire vistosa no cioè non se ne parla dovete tornare indietro e alla fine tutti hanno capito che era meglio inserire la retromarcia punto e a capo Carolina te ne ho parlato prima del collegamento quindi so che posso dirti che hai presentato questo tua la tua vita la tua vita privata e la tua vita professionale in questo libro che hai presentato nello scorso autunno fuori dagli schemi in cui tra l'altro tuo padre che adesso mi è più simpatico ancora di più perché me l'hai dichiarato tifoso dell'inter quando gli hai detto papà mi sposo e lui ti ha detto bene e tu gli hai detto papà però mi sposo con una donna tuo padre ti ha detto meglio l'importante è che tu sia felice giusto? è vero è vero e mi ha detto io non posso partecipare perché non posso lasciare la mamma da sola io ho mia mamma io ho i genitori molto longevi perché mia mamma ha 99 anni mio papà ne ha 92 e quindi mi ha aiutato economicamente con con il con l'organizzazione del dell'evento e basta ma del resto mio padre adora Nicola come come mio fratello come insomma tutta la mia famiglia scusa è vero l'episodio per cui quando tu e Nicola vi siete conosciute lei ex calciatrice australiana l'incontro è avvenuto all'ombra di una gaffa perché tu le hai detto io sono ciao Jane io sono Carolina e lei ti ha detto perché mi chiami Jane io sono Nicola giusto? sì io perché non potevo perché a me sarebbe ma io ancora adesso adesso l'ho pronunciato bene ma in realtà la chiamo Nicola perché per me Nicola come per tutti era un nome da uomo insomma la sua presenza proprio ha poco a che vedere con quella di un uomo per cui mi è venuta però ho capito subito che a lei quel nome Jane non piaceva affatto quindi è stata la prima e ultima volta ma vi siete sposate due volte perché? ma la prima è stata in Inghilterra e la seconda è stata in Australia che è il diciamo Nicola è inglese australiana quindi l'abbiamo fatto innanzitutto in Inghilterra perché lei cittadina inglese si poteva fare poi quando il matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato reso possibile in Australia lì pensa Antonello che lì è regolata prima l'adozione dei bambini anche dalle coppie gay e dopo è stato regolamentato il matrimonio delle persone gay quindi una volta che è stato possibile farlo anche lì abbiamo regolamentato la posizione la nostra posizione in Australia cosa che devo ancora fare in Italia che devo ancora fare la registrazione del matrimonio senti l'omosessualità nel calcio è considerato un tabù di cui è tabù parlare cioè ho sempre avuto l'impressione poi in realtà molti calciatori lo hanno detto eccetera dice chi dicendo non posso escludere che ci siano fino a quello che dice no no ci sono poi per ovvi motivi meglio non esporsi ecco siamo ancora così cioè per ovvi motivi che tutti danno per scontati poi uno dice quali sarebbero gli ovvi motivi per ovvi motivi è meglio per un calciatore o per una calciatrice se desidera farlo perché io poi ho un sovrano disinteresse per la vita privata delle persone a me che uno faccia coming up se uno fa il calciatore voglio sapere come gioca non cosa fa o nella sua vita privata chi se ne frega cioè zero ma questo vale per qualsiasi categoria per ovvi motivi è meglio non esporsi siamo ancora così ma la cosa drammatica antonello non è che è solo nel mondo del calcio cioè è dappertutto lui in italia i politici giornalisti gli attori tutte le categorie cioè tutte le categorie è meglio che si nascondano questo è il problema che il messaggio in italia ancora questo ma se noi non cominciamo a cambiare la cultura dalle scuole e io dico ma non solo nel rispetto delle delle diversità proprio nell'educazione a spiegare nelle scuole che cosa vuol dire essere diverso che cosa vuol dire essere un alcolista che cosa vuol dire essere bullizzato noi queste cose a scuola non le facciamo e allora come pensiamo che come pensiamo di poter cambiare la cultura perché guardate e tu antonello ovviamente lo saprai bene che negli altri paesi ma si vergognano a lanciare epiteti contro le persone diverse la gente si vergogna mentre noi in italia più grezzi siamo e più ci vantiamo questo è il problema il problema il problema nostro non è soltanto noi il nostro è un paese indietro rispetto a rispetto rispetto agli altri ma indietro anche nel dire che ne so vado a vedere una partita di calcio invece di dire ah boh guarda che bravo quel ragazzo di colore no quel ragazzo di colore ha un nome o ha un nome ha un numero di maglia ha i capelli messi in un modo dovrebbe essere l'ultima cosa ehm designarlo in base al colore della pelle ma noi per noi il fatto di dire ah ma che sei handicappato ma che sei mongoloide sono cose del linguaggio normale di cui noi noi parliamo così e non ci rendiamo conto di quello che diciamo non è solo non è solo l'omosessualità proprio è proprio il rispetto del delle minoranze della diversità del del diverso probabilmente che non è solo diverso io sono d'accordo soprattutto sull'aspetto culturale cioè io credo che adesso c'è in discussione ne parleremo dopo domani con marina terrani questo disegno di legge zanna contro l'omofobia è molto controverso perché introduce alcuni concetti dibattito che qui non è il caso di fare io dico sempre però che poi in in Italia le leggi non mancano le anche le leggi che sanzionano le aggravanti no il problema però non è introdurre sempre più norme con sempre più sanzioni perché se comunque tu poi il livello culturale cioè educativo della società non lo innalzi tu puoi mettere tutte le leggi le sanzioni che vuoi ma sempre i comportamenti sbagliati avrai lo dico soprattutto ne ho discusso anche qui qualche settimana fa a proposito della vicenda di Beppe Grillo l'accusa al figlio lo stupro eccetera e io dico sempre sì benissimo ma quello che sarebbe il caso di fare è educare e lo dico anche alle donne soprattutto quando educate i figli maschi educateli alla cultura del rispetto per la donna per l'altro la donna che è diversa da voi perché se lo eduquerete ai miti del macismo il rischio è che poi crescendo quello macista sarà quindi più che proteggere vostra figlia educate vostro figlio in modo che abbia comportamenti corretti nei confronti delle donne nei confronti di colui che viene in quel momento giudicato diverso da sé perché la diversità non è una categoria ontologica è sempre diverso rispetto a una situazione a una persona io sono diverso da te tu sei diverso da me questo non ci piove carolina mi fa piacere che abbiamo scusa posso dirti solo una cosa antonello un solo flash quello che vuoi allora come fa un paese a rispettare le donne se noi accettiamo la le prostitute in mezzo alla strada guardate che anche questa è una cosa da terzo mondo guarda non avendo mai praticato il settore neanche nei momenti di disperazione che pure ho avuto nella mia vita di eterosessuale non voglio commentare però fai bene a segnalare la circostanza sì diciamo che certi spettacoli si potrebbero risparmiare organizzandosi perché poi io riconosco il diritto di una donna che mi può dire ma io voglio fare la prostituta benissimo allora costriamo un sistema per cui la cosa non sia a livello diciamo da strada carolina grazie incrocio le dita per il campionato della squadra femminile della lazio in vista della conclusione del campionato di serie b con i migliori auguri di cuore ci risentiamo presto noi ci rivediamo domani parleremo con andrea locicero rugby ma che intanto fa anche altro e voi continuate a seguire le fonti tutto il giorno a cominciare dal programma che ci segue buona giornata a tutti arrivederci